La rapida ascesa dello shopping online ha portato a un importante cambiamento nelle vendite omnicanale il modo in cui i produttori, distributori e rivenditori devono entrare nel mercato. Tuttavia, senza la possibilità di monitorare i prezzi o le promozioni online in tempo reale, non è possibile controllare e adeguare i prezzi o migliorare la propria posizione competitiva. Questo può avere un impatto significativo sulla tua quota di mercato e sui tuoi profitti quando sei fuori prezzo e meno competitivo. Ti presentiamo Vantage View di Vistex, una piattaforma di analisi di mercato che offre un monitoraggio completo dei prezzi della concorrenza e un'analisi dello scaffale digitale. Vantage View ti fornisce informazioni sul mercato, raccoglie terabyte di dati globali e offre una visione completa su prodotti, distribuzione, prezzi e promozioni, in modo che tu possa valutare le tue strategie di prezzo e le prestazioni dei tuoi canali di vendita così da posizionare meglio i tuoi prodotti, sia online che in negozio. Prendi il controllo dei tuoi margini con informazioni precise in tempo reale, con la capacità di analizzare assortimenti, promozioni, prezzi e comportamento dei consumatori, sfruttare analisi avanzate, big data, esterni e AI, integrarsi con le soluzioni Vistex per migliorare la pianificazione di prezzi, promozioni e prodotti. Supera la concorrenza, prendi decisioni di prezzo globali informate e conquista nuovi mercati. Vantage View di Vistex, conosci il tuo mercato, ottieni un vantaggio competitivo.